vi ricordate quando si collegavano con zang cialanoglu si collegava con zang ma dall'altra parte non c'era zang vi ricordate quando dicevano che zang era nei box della ferrari ma invece era uno che praticamente era stato messo a somiglianza di zang e non era zang questi sono i sotterfuggi che siamo abituati a vedere naturalmente noi non ci beviamo niente ben trovati ben trovati cari amici e andiamo a vedere un'altra l'ennesima porcata l'ennesima bugia della non iscrivibile di una squadra vergognosa di una squadra scandalosa di uno schifo totale vi prendono per culo non a me naturalmente perché io faccio le mie indagini faccio le mie ricerche e arrivo sempre dove voglio io a dire la verità un'altra ulteriore conferma del fallimento e stiamo parlando del rinnovo di lautaro martinez un giocatore mediocre fatto diventare chissà che cosa da questa informazione scandalosa che sostiene questa squadra non iscrivibile ex squadra non iscrivibile al campionato di serie a pignorata fallita con imbrogli dalla mattina alla sera e con imbrogli che ormai sono sotto gli occhi di tutti e che le istituzioni non certificano togliendocela dai coglioni visto che è una abusiva ed è portatrice soprattutto di vergognosi illecite è una squadra portatrice di illeciti sotto gli occhi di tutti guardate che cosa hanno combinato con lautaro martinez allora dicono lautaro martinez ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2029 andiamo su calcio e finanza potete andarci pure voi dove il titolo è ufficiale lautaro rinnova con l'inter le cifre come cambia l'impatto a bilancio poi all'interno dice ora è ufficiale lautaro martinez ha rinnovato il suo contratto con l'inter fino al 30 giugno 2029 lo ha comunicato il club nero azzurro con una nota pubblicata sul sito ufficiale e allora andiamo sul sito ufficiale dell'inter che dice comunicato sito ufficiale dell'inter eccolo qua lo potete vedere il sito ufficiale dell'inter dove praticamente c'è il comunicato eccolo qui il tono come chiamano loro tutto quanto bello dietro questo questi ferri vecchi che stanno alle loro spalle e poi c'è il comunicato non si pensa un comunicato con cifre con il pdf che ci dicono dove sono le cifre quando prende quando non prende invece il comunicato è di ben cinque righe e dice milano fc internazionale milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore lautaro martinez l'attaclande 1997 sarà nero azzurro fino al 30 giugno 2029 e allora uno scorre no e dice ma dove sta dove stanno le cifre dove stanno no niente praticamente niente perché questa è l'ennesima vergogna perché non dicono le cifre perché le cifre di lautaro sono in nero sono praticamente in nero perché sono in nero perché come ci spiegava gigio juve qualche giorno fa giustamente e come dice calcio e finanza octree non dà la possibilità di salire oltre i 5 milioni per gli ingaggi quindi due milioni e mezzo il massimo attraverso poi il lord il netto e al lordo 5 milioni e allora non vi dicono le cifre sapete perché non vi dicono le cifre perché lautaro ha preso due milioni e mezzo netti il resto in nero basta andare a vedere il contratto depositato in lega quando prende lautaro martinez altro che 9 milioni l'impatto i 16 milioni la doppia cifra prende due milioni e mezzo ufficialmente non è un fatto illegale per carità ma è illegale che gli danno il nero ecco perché la procura di milano dovrebbe subito aprire un'inchiesta sul nero che danno ai calciatori dove vadano le tasse perché la non iscrivibile evade le tasse in questo modo basta andare a vedere fare un'indagine e vedere che lautaro martinez è pagato in nero il contratto è depositato in lega andate a vedere e smentitevi se avete i coglioni ma voi coglioni non li avete l'ennesimo imbroglio l'ennesima vergogna l'ennesima disfatta dell'informazione e della serietà questa è l'ennesima disfatta ci troviamo di fronte ad una vergogna assoluta un questo il rinnovo di un calciatore questo è il comunicato e poi come mai non c'è il comunicato sulla situazione frattesi come mai non c'è questo comunicato e come si apre questo argomento si tenda subito di metterlo in naftalina di metterlo sotto farlo passare a tarallucci e vino questa è la verità non hanno le palle di scrivere che ha contratto ufficiale hanno dato a lautaro martinez due milioni e mezzo altro che i 9 i 11 12 i 15 tanto è vero tanto è vero che calcio e finanza dice potete leggere da indiscrezioni il giocatore prenderebbe 9 milioni da indiscrezioni perché ufficialità non ce n'è il comunicato ufficiale della non iscrivibile dell'imbrogliona nazionale dello scandalo mondiale di questa associazione che questo è uno scandalo mondiale ancora una volta ancora una volta detto questo poi gigio juve riprende 50 milioni di debiti con il comune di milano e sarebbe cosa buona e giusta che sala altro non iscrivibile anche lui e non è votabile i milanesi lo cacciassero da milano perché sta facendo danni politici danni etici danni soprattutto perché poi l'anno prossimo il 2025 devono essere sborsati questi arretrati da parte della non iscrivibile quindi stanno rimandando tutto stanno rimandando proprio tutto e questi pretendono che noi parliamo di un campionato serio pretendono che noi parliamo di un campionato che comincia come vi dicevo ieri è un campionato che comincia in una maniera ad handicap non è serio questo campionato il calcio italiano è andato alla malora per la non punibilità di una iscritta al campionato e non è iscrivibile perché non ha i parametri non ha le condizioni siamo di fronte ad una vergogna mondiale nessuno interviene adesso pagano i giocatori in nero perché ho actri non può ha dato un tetto 5 milioni lordi per gli ingaggi 10 milioni per gli acquisti tanto è vero che su cabal c'era molto prima l'inter ma il costo del del cartellino era di 13 milioni e la non iscrivibile che era arrivata molto prima non lo ha potuto prendere perché ho actri non ha dato l'ok e quindi è andato è andata la juventus a prenderselo non è che un giocatore la mezza la mezza gazzetta vabbè cioè questo vi deve far rendere conto di fronte a quale imbroglio ci troviamo continuano ad imbrogliare continuo a farvi fessi non a me perché io rischiamo in ogni cosa che fa continuano e la loro imperturbabile campagna di reati di illeciti voi pensate che lautaro sia contanti di 2 milioni e mezzo netti io non credo ne vale molti di meno in termini pratici altro che il tono però ne hanno dato i due milioni e mezzo non hanno il coraggio di dire le cifre non l'hanno il coraggio ma di cosa dobbiamo parlare ma davvero siamo siamo appresso a un campionato che sta per cominciare ed è una cosa scandalosa e vergognosa ma davvero pensate questo ma ma che scherziamo ma che stiamo scherzando sono alla vergogna totale altra che rinnova ma guarda rinnova e tanto è vero che anche su calciogol.it io la notizia non l'ho data subito perché sono andato un po ad approfondire quello che si verificava questi bugiardi questi uomini fake questi imbroglioni ne fanno uno ogni mezz'ora questi imbroglioni e purtroppo poi c'è chi è serio onesto e paga perché perché nel sistema marcio l'onesto diventa disonesto per i disonesti e quindi chi sostiene questa zavorra nel calcio italiano e cioè la non iscrivibile chi la sostiene va contro chi fa le cose seriamente nella fattispecie per esempio juventus e milan e tutte le altre mi fermo qui mi fermo qui vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube sergio vessicchio a mettere un like a mettere un vostro giudizio nel commento vorrei sentire tanti vostri commenti naturalmente vi invito a far girare anche il il video solitamente non ve lo dico ma perché la gente deve sapere deve sapere questi a che cosa stanno arrivando è un anno cioè hanno praticamente con zang hanno fatto di tutto e di più lo hanno messo lì e dietro al quale hanno fatto imbrogli lui era la testa di legno perché zang era la testa di legno ormai è chiaro è palese mi fermo qui alla prossima